Inferno, canto diciassettesimo. Ecco la fiera con la coda guzza, che passa i monti e rompe i muri e le armi. Ecco colei che tutto il mondo appuzza. Parafrasi. Ecco la belva con la coda appuntita, che oltrepassa le montagne e spacca muri e difese umane. Ecco colui che infetta tutto il mondo con il suo fetore. Commento. In questo canto viene presentato il guardiano delle male bolge dell'inferno, Gerione. È raffigurato con il volto da uomo giusto, la coda biforcuta simile a quella di uno scorpione e il corpo di serpente. Il mostro è allegoria della frode, un comportamento finalizzato ad ingannare con sotterfugi e imbrogli un diritto altrui. Ed è proprio per questo che viene rappresentato con il volto ingannevole. Dante inizia a descriverlo proprio dalla testa, per poi arrivare alla coda per evidenziarne l'aspetto disgustoso. Il contesto è estremamente attualizzabile, perché la mostruosità di Gerione può essere oggi rivista nell'immagine di persone apparentemente gentili, magnanime e cordiali, ma che poi, dopo un'analisi più approfondita, risultano indossare semplicemente una maschera, e si rivelano per quelle che in realtà sono. L'atrocità di Gerione non consiste infatti nel comportamento violento, bensì nel mostrare il vero volto del male. Esso appare in un primo momento attraente, caritatevole, climente e affabile, ma quando capisce di aver intrappolato l'uomo, si toglie la maschera e rivela tutto il suo orrore.